Nonno, ho finito. Cosa faccio ora? Fai il tuo esercizio. Un albero, due alberi, tre alberi, quattro alberi, cinque alberi, sei alberi, sette alberi, otto alberi, nove alberi, dieci alberi, undici alberi. Nonno, sono stanca. Continua. Un albero, due alberi, tre alberi, quattro alberi, cinque alberi, sei alberi, sette alberi, otto alberi, nove alberi, dieci alberi, undici alberi, dodici alberi, tredici alberi, quattordici alberi, undici alberi, sedici alberi. Finché non finirai tua sorella starà lì, immobile. 20 alberi, 21 alberi, 22 alberi, 23 alberi, 24 alberi, 25 alberi, 26 alberi, 27 alberi, 28 alberi, 29 alberi, 30 alberi, 31 alberi, 32 alberi, 33 alberi, 34 alberi, 35 alberi, 36 alberi, 37 alberi, 38 alberi, 39 alberi, 40 alberi, 41 alberi, 42 alberi, 43 alberi, 44 alberi, 45 alberi.